Come sempre ci dimentichiamo di dire alcune cose nell'intro, quindi le diciamo dopo, facciamo le cose al contrario Allora, prima di tutto ragazzi metteteci tanti likes se vi sta piacendo questa serie per capire appunto sia se vi piace GTA V Sia se vi sta piacendo questa serie delle challenge perché dobbiamo capire meglio se ci dobbiamo investire un bel po' di tempo Come seconda cosa abbiamo creato un sondaggio in alto a destra Lo dico io, lo dico io Dica, 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 praticamente troverete un sondaggio Vi chiederemo se vi piacerà vedere altri video con queste gare malate che affronteremo qui nella sfida Quindi fateci sapere se vi piacciono e se volete vedere video appunto al di fuori anche della sfida Esattamente, buona visione ragazzi Buona visione È impossibile Vai Zitto, 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 zitto Tutto a posto? Ti ho così preso? E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef E che stiamo nel secondo episodio di una coppia tante sfide E siamo su GTA V Nello scorso episodio infatti vi avevamo chiesto che gioco avreste voluto vedere come secondo episodio delle nostre sfide E ha stravinto in una maniera incredibile GTA Io non me l'aspettavo proprio se devo essere sincero ma siamo felicissimi perché è un gioco che secondo noi può essere davvero divertente e ha un ottimo potenziale Ma la prima cosa da dire è che potete stare tranquilli perché non ci sarà nulla di volgare, di troppo violento Insomma non ci sarà Di eccessivo mettiamola così Esatto, nulla di fuori luogo in questi video fatti da noi su GTA V perché vogliamo appunto renderli adatti un po' a tutte le età Quindi questa è una cosa alla quale teniamo molto, quindi potete stare tranquilli ma allora che cosa faremo oggi? Faremo delle gare dove l'hashtag è delirio Delirio Perché abbiamo scelto delle piste totalmente pazze La sfida sarà appunto chi riesce a completarne di più se qualcuno riuscirà a completarne Perché questo è un grandissimo dubbio, io non so neanche se riusciremo a completarle perché sono davvero folli di quelle gare impensabili, fighissime Per iniziare abbiamo scelto una cosa un po' strana Io non ho idea di cosa sia, aiuto! È normalissima no? Vedi, fin qua cosa noti di strano? Che non c'è la strana! Non partire No, vieni, 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 vieni No, dobbiamo scendere di sotto, vero? Vieni, vieni, piano, piano, piano Allora, facciamo una cosa Cosa vuoi fare? Mi vuoi spingere? Farti partire per primo, giusto per capire Uh, aiuto! Attenta che poi cadi da sola Inizio a vedere cosa c'è sotto Vabbè Allora Ciao! Io vado, io vado Sono andato troppo veloce Uh, uh, ce la faccio, ce la faccio! Aiuto! Del contrario Sei caduto di sotto! Davvero? Io vado, grazie Io vado C'è fatta? Sì, ce l'ho fatta, non so come Ce la sto facendo, eh Mi devo muovere, è pur sempre una gara Allora, aiuto Ok, ok, ce l'ho fatta Adesso non so cosa aspettarmi quando vado di sotto, però Arrivo No, ma è bellissima! Mi piace il fatto che sia super colorata È uno dei miei colori preferiti, quindi sono felice Guardate la disgraziata dov'è E adesso Aiuto No, è fantastico, muoviti, muoviti E che muoviti, capito? Oh mio Dio Oh mio Dio Oh no, no! Che succede? Uh, uh, aiuto, adesso lo vedrai Ti aspetto, ascolta, ti aspetto qua Perché voglio che continuiamo insieme, dai Guarda cosa c'è qua Non te lo aspetterei mai Attento! Che ti schiaggiano! L'ho schivato totalmente a fortuna Andiamo, andiamo, forza Andiamo, andiamo, andiamo Dovrebbe essere una gara, ma mi hai aspettato Che gentile Eh, vabbè, dai Perché voglio vedere le cose assieme Allora, la sciupero Ok, ok, vediamo qua No, no! Mi fai incastrare lì! Allora, togliti Chi va per primo? Perché ok che ti ho aspettato No, ma prima ero Io rimango prima, scusami No, non mollo Una sfida, aiuto Non mi stai facendo accappottare No, no, sei un disgraziato Mi hai fatto sbandare Torno subito Torno subito Oh mamma mia Aiuto, aiuto, aiuto Oh mamma mia Sono volata via No, non l'ho capita quest'ultima parte Non l'ho capita Non l'ho capita Ma dove sto finendo io? Non lo so No, no, è stranissimo Continuando avanti Io sono più Oh, ti ero aggiunto Ti ero aggiunto Corri, 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 corri Ci dobbiamo fare il giro della morte? Credo proprio di sì Adesso? No Ah no, ok Ce l'ho fatta Aiuto Stiamo nella seconda sfida Questa sarà una death run Per chi non sa cosa sia Praticamente ci saranno i peggi ostacoli E dovrò riuscire ad arrivare alla fine Teoricamente Ferinichi è lì Con un fucilecce Chi no? Per ostacolarmi Non provare Dove sei? Dove sei? Ecco, lì Ah, eccoci Posso sparare? No Dicevo infatti Che teoricamente Ferinichi è lì Però non mi sparerà Perché già è abbastanza difficile No, l'abbiamo provato ieri Dobbiamo fare cose violente No, non è tanto per la violenza Ok, perché secondo me sarebbe molto divertente spararti Io ci tengo a dire sta cosa Il fatto è che Adesso lo vedrete È totalmente impossibile Quindi secondo me Già riuscire a correre Sarà un'impresa incredibile Sparare è quasi un favore Contando No, no, davvero, davvero Quindi diciamo che io ti spio Con il mio mirino Va bene E mi limito a vedere come Andrà la tua, la tua corsa Ok, ti mando un bacio In ogni caso per la prima sfida Direi che non c'è un vincitore Perché ci siamo talmente tante volte aspettati Che non saprei chi ha vinto Quindi facciamo che è stato un pareggio No, siccome esatto Volevamo vederle divertirci assieme Ci siamo fatti prendere la mano Diciamo che è pareggio Quindi adesso Si fa sul serio Dobbiamo spareggiare Dobbiamo spareggiare E vedremo chi sarà il vincitore Sto già visualizzando tutto Dove sei? Io non ti vedo più Eh sì, perché sono coperto da delle barriere Ma sto saltando delle palle di fieno Ah, eccoti Aiuto Programmato Ti ho visto volare dritto di testa L'ho fatta apposta L'ho fatta apposta Sicuramente Ok È un po' un salame il personaggio di GTA No, sono molto legati nei movimenti Quindi ogni cosa che fa è rotola in terra Però fa ridere per quello Allora, te la ti prendo con calma No Che cos'è? Devo centrare la Capito? Ok Dai, no, ti voglio vedere Adesso guardo il tuo schermo Perché io da qui non lo vedo Quindi lo voglio vedere Vai No No Ok Un modo un po' grezzo Però ce l'ho fatta A furia di rotolare ce l'hai fatta Corro un pochettino di qui Perfetto Adesso qua Guarda che sta andando bene Secondo me Però vedo cose cadere da sole Ok, io aiuto Allora, io sono molto coperta Poi lo vedrai Quindi non sempre ti vedo È un peccato Perché mi fa ridere No Mi fa ridere vederti cadere Come in questo momento Oh, poverino Povero Steph Però la mia faccia è tristissima Vediamo se vediamo una ferinichistematica a passare Eccola, eccola, eccola L'ho vista correre Adesso mi devo lanciare di sotto Sì Poi vedrai cadere Con tanta eleganza Cascare Cascare in terra Sta bene Questa era la più bella, no? Ti ho visto sbattere come un biliardino tutto il tempo Ok, si è rialzata Dove sei? No, girati dietro di te Dietro di te Dietro di te Vedi che c'è quel container rosso Eh? L'hai sparato? Sì Ah, me lo fai esplodere dietro Così hai un motivo in più per correre Attento Cosa stai facendo? C'è bloccato il personaggio Ho sentito l'esplosione dietro È stato terribile Sono cronate delle macchine Si sta facendo un disastro Lascio, lascio Salto! Salto di nuovo Sei salva? Sì Per ora Attenta perché Ma è impossibile Posso togliermi un dubbio? Dimmi Ok No! Perché non hai saltato? Fai schifo Che dubbio ti vuoi togliere? C'è una cosa troppo divertente Che cosa? Facciamo un altro round Ok Ok Per ora sei arrivata più lontano tu Ok Sì Quindi vediamo se uno dei due riesce ad andare ancora oltre Però adesso possiamo sparare Ma non spararci tra di noi Sparare al Alle macchine Agli ostacoli Le macchine che fluttano Se tu le spari cadono Secondo me Va detto Anzi Come sappiamo benissimo da Roblox Che devi mettere degli ostacoli Esatto Secondo me non è tutto centrato su spararsi Ma su sparare gli ostacoli Quindi è bello Non avevamo capito Vedi Più furbi di noi Quindi adesso puoi sparare tutti gli ostacoli che ho Sì A parte le cose esplosive Perché quelle mi fanno secco al 100% Ok Ma la cosa più bella Eh no 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 Quelle sono troppo pericolose Però allora si fa divertente Puoi sparare macchine Strutture Tutto quello che vuoi Cercando di farmele cadere addosso Quindi adesso mi devo guardare in alto Vedi C'è già subito una macchina Poco più avanti La vedi Allora aspetta Fammi prendere tutte le munizioni Dove sei Mi vedi No Dietro di te Dietro Per favore Sì No ti vedo Ti vedo Vedi che c'è una macchina abbastanza qua Ah sì Ma dove devo sparare in alto Proprio la macchina Devi colpire la macchina Ok perfetto Perfetto vai Però mi sai dove sono in questo momento Eh no non ti vedo Ok Allora io corro Più o meno Dimmi che ho centrato No accidenti Non ti vedo Ce l'avevo fatta talmente alla cieca Eh devi cercare di capire Devi vedermi ogni tanto Ma Ok Meno male che mi ero fermato Però c'ero Se fosse andato dritto Ce l'avevi fatta Un disgraziato Sì mi devo pesantemente controllare dietro Terribile questa cosa ragazzi Ce la posso fare Allora Un attimo Ce la posso fare Dov'è la macchina Vado Ma non ti vedo È impossibile È impossibile Vai Vai Zitto 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 Tutto a posto Che sto così Ti ho così preso Mi hai fatto i baffi Stavo dicendo dove Sta la prossima macchina Eh vabbè Voglio vincere Voglio vincere Mi dispiace Voglio vincere Mamma mia che paura ragazzi Non uso mezzo i termini Allora Stef Non cadere Cosa ho combinato C'è anche questo Lo posso buttare Aspetta Aspetta che sono incastrato Non so come andare avanti Cosa ho combinato Guarda qua Guarda il mio schermo È fatto un disastro Perché la macchina Cadeva su dei tubi Non dipende da me Oddio mi sono persa Allora dove sei La prossima macchina Dovrebbe essere quella Ma ci sono di nuovo i tubi Mamma mia Ti schiacciano Guarda che Mamma mia Aiuto Ragazzi È bellissima È bellissima Ragazzi è un problema Guarda come avanzo No No Ok Ok Tutto a posto Tutto a posto Ci sono Ci sono Allora La sua bella macchinina La lasci stare lì va Io non so dove sei Sei caduto Povero Stef Sei caduto da solo C'era uno spazietto Pensando alle macchine Sì ma devi stare attento Perché il personaggio cade ovunque Devi proprio stare attento Allora Hai già vinto In automatico Perché sei quella Arrivata più lontano Ok Però Ora mi diverto Ma guarda che bellina Quella fanciulla Vedo il tuo coricino Nella maglietta Fino a qua Come sta? Benissimo Benissimo Sono esplose cose Vabbè Quasi mi dispiace Farti schiacciare da una macchina Non ce la farei mai Oggi sono molto calmo Tutto il tempo del mondo Non ci credo Che rimani tutto il giorno così Certo Certo Come sta? Tutto bene? Sei nascosta lì dietro Penso di essere al sicuro Ma oggi la voglio proprio schiacciare Arriviamo tutto il giorno così Eh te lo dico Vada vada Che danno a preuco Corro 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 Uh Ce l'ho fatto Ce l'ho fatto Ti ha sfiorato No fermo Non cadere di sotto Ma sei così in fondo Eh oh Non sei brava A vedere Eh L'ho fatta spaventare Aiuta Eh L'ho fatta spaventare Aiuta Ma sei matta Ti ho preso in pieno? Ma non sono morta Ajaha Ho preso di faccia la macchina davanti a me Ma perché non sei morta? Perché praticamente non ti uccide subito Vabbè figo Perché così continui La sfida purtroppo l'ha vinta Feri Niki Però ci facciamo Che purtroppo Che purtroppo Purtroppo è una cosa tristissima questa Non so stata io Chi è stata Spacca nella macchina ma non ci sono le collisioni No peccato che me le hai messo Comunque ci facciamo l'ultima gara per Suizio Quindi andiamo insieme in modo tranquillo E ci vediamo un'altra di queste gare folli Ovviamente ragazzi La sfida era basata tutta sulla Detran Le gare le abbiamo fatte giusto per divertirci un po' Però fateci sapere se magari volete qualche video Proprio a sé dove facciamo di queste gare Perché ce ne sono un'infinità Abbiamo visto che ci sono alcuni youtuber Che comunque fanno delle serie su questo genere di mappe E secondo me sono molto divertenti No sono bellissime Sono davvero fantastiche Sembra di essere su una giostra Io ho sbandato Non so dove sei tu Davanti a te perché io vinco sempre Ma sei bravissima comunque a guidare in queste cose Ma non è vero Io ho qualche problemino E se l'ho fuori tu Oh aiuto Che è successo? No 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 Non me l'aspettavo questo Tu te l'aspettavi? Io non me l'aspettavo Ok sono caduto Dove siamo finiti? Boh Siamo nel cielo tipo Bellissimo Sì siamo nel cielo con queste curve Fai attenzione che cibo lì di sotto Ah ok Ok proprio Non puoi sbagliare neanche un pochettino Ma c'è il fuoco Esatto Passa in un cerchio infuocato Bellissimo Ho troppo paura Ho troppo paura Mamma mia Oh no Oh no Oh no Siamo troppo veloci qua Sì io la faccio in prima persona perché non riesco mai a farle queste cose Questi giri della morte Ma dove sono finito? Non so guardare Aiuto No aiuto Epico Davvero davvero Non ce la farò mai a fare questa cosa Mi fa troppo paura Mi fa venire capito un mal di testa quando gira troppo La rampa finale La rampa finale signori Il volo di ste Sembra l'altro Sì Aspetta arrivo Allora Devo girarmi in un modo tale da non fare esplodere la macchina Ok Uff Arrivo Dove sei? Aspetta l'ultimo volo Ce l'ho fatta Adesso mi schianterò malamente Guardate un puntino Mi schianterò malamente Allora giro perché altrimenti qua finisco male Eccola Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ciao Ce l'ho fatta E mi supera Sì Giusto per arrivare primi Sai com'è Graziata Bellissime queste gare Sono davvero divertenti Anche se ogni tanto ci sono pezzi davvero complicati È giusto così Ma è quello il divertente Deve essere difficile Davvero davvero fighissimo Mi piacciono un sacco da fare Mi piacciono davvero un sacco In ogni caso ragazzi Ci fermiamo così per questo video Con le sfide Quindi siamo arrivati a uno pari Dato che la prima l'ho vinta io La seconda l'ha vinta a Feri e Niki Quindi siamo uno pari E volevo dire una cosa Che per questa volta abbiamo pensato A una piccola penitenza Che faremo all'inizio del terzo video Quindi quando partirà Quindi il terzo video Una coppia tante sfide Ci sarà la penitenza Esatto Prima della sfida effettiva Per dargli il giorno Più o meno sarà domenica Sarà su Gangbeast E inizieremo il video Con la penitenza Che in questo caso Sarà mia E dovrò riuscire a fare La Battle Flip Challenge In gioco come si chiama E io non sono molto esperto Di queste cose La Flip Battle Challenge Ah era il contrario Flip Battle Challenge Praticamente la challenge Se non so neanche il nome Potete immaginare Quanto sono bravo A far girare le bottiglie Sì e in pratica Quella sfida dove c'è La bottiglia che la devi lanciare E cercare di farla Atterrare in piedi Esatto Quindi niente di troppo complicato Sarà divertente Vederti cercare di fare Io credo che impazzirò Comunque ci tenevo anche a dire Che il terzo episodio Sì Bla 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 Sarà appunto su Gangbeast Perché è un altro gioco Che nei commenti Ci avete chiesto tantissimo Quindi ovviamente Per queste sfide Vi ascolteremo tantissimo E non vedo l'ora Di giocare a Gangbeast Beh ragazzi Se non ci vedete Il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao